Buongiorno ragazzi bentornati all'interno del nostro canale saluto la prima h saluto la prima i e vi do il benvenuto nella lezione di oggi la lezione del sabato e quindi la lezione operativa di approfondimento Ringrazio tutti per i compiti che state continuando ad inviarmi molto molto bene andiamo avanti così e continuiamo a lavorare tutti insieme così bene qui all'interno del nostro canale e voi nelle vostre case attraverso i compiti per casa che vi assegno Come sempre vi ricordo che io sto a casa io sto a casa voi state a casa continuiamo a combattere l'estate si sta avvicinando e noi vogliamo viverla vogliamo viverla a pieno e per questo bisogna sconfiggere il virus il virus si sconfigge stando a casa continuiamo a combattere Possiamo dunque procedere e iniziare la lezione di oggi che sarà dedicato ad un aspetto che spesso è problematico nella stesura dei nostri testi ma vediamo Il protagonista della lezione di oggi è questo segno voi direte ma prof ma ha già fatto la lezione sull'uso della virgola l'ho seguita molto attentamente Questa non è una virgola ci assomiglia questo L'apostrofo è uno dei segni di interpunzione maggiormente difficili da utilizzare difficili e si fanno tanti errori e sono errori che pesano molto sui risultati sul punteggio di un compito o di un tema E poi se trovate l'insegnante che ha la giornata cattiva sono guai Orlando ma come ti permetti? Cosa hai scritto alla lavagna? Ma non ti vergogni? Guarda che cosa hai combinato Ti sembra quello il modo di scrivere qual è? Un po' di attenzione Devi studiare di più sai Non ne posso più di questi errori Io sono costretto a darti quattro Qualcosa lo sapevi ma è quattro è quattro Vai al posto per favore E cancella quell'apostrofo che è meglio È orribile Vai al posto dai vai al posto Quattro non di più Avete visto che è meglio non scherzare con gli insegnanti d'italiano riguardo all'apostrofo Meglio metterlo dove serve e meglio non metterlo decisamente dove non si può Mi raccomando Questa lezione servirà anche a questo Ad evitare Tante tante urla Ma direi di iniziare con ordine Faremo degli esempi In modo che possiate memorizzare Quando va messo l'apostrofo E quando invece l'apostrofo non va messo Iniziamo con i primi esempi Nel caso degli articoli la e lo E delle preposizioni del, al, sul e nel Non abbiamo nessun problema se la parola che segue inizia con consonante Avremo ad esempio la pizza Lo squalo Del pane Al mare Dove vorremmo essere un po' tutti quanti In questo momento Sul tavolo Nel fiume Non c'è nessun problema I problemi sorgono Quando la parola che segue inizia invece per vocale In caso di un nome che inizia per vocale E non per consonante Serve invece utilizzare l'apostrofo E avremo quindi i nostri esempi L'amata L'aratro Dell'acqua All'attacco Come Achille contro i troiani Sull'albero Nell'erba Non diremmo mai La amata Sentite come suona male E come rallenta la nostra frase Non diremmo mai Non diremmo mai Lo aratro Non diremmo mai Della acqua Non diremmo mai Allo attacco Non diremmo mai Sullo albero E non diremmo mai Nella erba Qui serve l'apostrofo Un altro caso a cui prestare attenzione è questo Il caso degli articoli indeterminativi Uno e una Uno maschile Una femminile Nel caso di un nome che inizia per consonante Non abbiamo nessun problema Uno scalino Una stanza Invece I problemi sorgono se il nome inizia per vocale Quando il nome inizia per vocale Si mette l'apostrofo solo nei nomi femminili Non mai in quelli maschili Quindi avremo un abito senza apostrofo E avremo un anatra invece con l'apostrofo Maschile senza apostrofo Femminile con l'apostrofo Mi raccomando questo è un errore che si fa molto spesso Se avete dubbi Il consiglio è sempre lo stesso Prendete il vostro dizionario E controllate se il nome è maschile o femminile Questo per avere la certezza se mettere l'apostrofo o non metterlo Un altro caso interessante È il caso di quello e quella Che servono come abbiamo visto nelle lezioni di grammatica Per indicare degli oggetti che sono lontani da chi parla Nel caso di nomi che iniziano per consonante Non c'è alcun problema Abbiamo quello stadio Abbiamo quella casa Quando però il nostro nome inizia per vocale Noi mettiamo l'apostrofo Sia per il maschile Sia per il femminile Quell'orso Maschile con l'apostrofo Quell'epoca Femminile con l'apostrofo Nel caso di parola e di nome Che inizia per vocale Sia per il maschile Che per il femminile Si inserisce l'apostrofo Leggermente diverso È il caso di Questo e questa Che noi abbiamo utilizzato in grammatica Per indicare degli oggetti Che sono vicini a chi parla Nel caso il nome che segue Inizi per consonante Non ci sono problemi Abbiamo questo libro Questa penna I nomi, come potete vedere Iniziano per consonante Nessun problema Nel caso invece il nome Che segue questo O questa Inizi per vocale Noi facciamo cadere Le nostre vocali O e A E aggiungiamo l'apostrofo Sia per il maschile Che per il femminile Quindi avremo Quest'amico E avremo Quest'estate Badate bene però a un dettaglio Nel caso di questo E questa Si può Si può Nel caso la parola che segue Iniziasse con una vocale Si può anche Non utilizzare l'apostrofo E non far cadere L'ultima lettera Di questo e questa Si può anche scrivere Questo amico Questo amico E si può sicuramente scrivere Questa estate L'utilizzo dell'apostrofo In questo e questa È facoltativo Si può fare Ma si può anche non fare Leggermente diversa Leggermente diversa È la situazione Invece di Di bello E bella Nel caso Il nome che segue Iniziasse Per consonante Non c'è nessun problema Avremo ad esempio Bello stile Oppure Bella camera Vedete Nessun problema In caso invece Di nomi Che iniziano Per vocali Avremo L'utilizzo Del nostro Apostrofo Quindi Bell'animale E Bell'idea State attenti Però Mentre nel femminile Possiamo scrivere Bell'idea Ma anche Bella idea Senza quindi Utilizzare l'apostrofo Al maschile Questo non è possibile Diciamo e scriviamo Bell'animale Ma non possiamo E non possiamo Dire Nè scrivere Bello animale Per cui Questa O Non ci sta E questa formula È sbagliata Per il maschile È obbligatorio Nel caso di Bello Utilizzare L'apostrofo Bell'animale Nel caso del Femminile Bella Si può Scegliere O Bell'idea Con l'apostrofo O Bella idea Sono corretti Entrambi Si può Scegliere È Facoltativo E passiamo A due Degli Errori Tremendi Che vengono Fatti Da tutte Le generazioni Di studenti E che purtroppo Per gli studenti Danneggiano I loro testi E i loro elaborati Po Va Con l'apostrofo Non il fiume Ma quando lo utilizziamo Ad esempio Sono un po' stanco Con l'apostrofo Niente accento Solo l'apostrofo Oppure anche Vorrei un po' d'acqua Po Sempre con l'apostrofo Mai con l'accento Sempre apostrofo Un po' Va Con l'apostrofo E questo È l'errore Che fa Arrabbiare di più Gli insegnanti D'italiano È un disastro Se fate questo Perché I vostri temi Magari bellissimi Scritti In maniera stupenda Con una trama Avvincente Perdono di interesse Molti insegnanti D'italiano Vedranno Solo questo Se voi Mettete L'apostrofo Qui Il vostro voto Crolla Qual è Quindi Va Senza Apostrofo Qual è Il colmo Per un prof Di matematica Qual è Senza Apostrofo Il colmo Qual è Il colmo Per un prof Di matematica Abitare in una frazione Che figure mi fai fare con i ragazzi Ma che battute sono E concludiamo la lezione di oggi Con un suggerimento pratico Sono lezioni queste pratiche Per cui bisogna imparare dei metodi semplici Da mettere in atto quando ne abbiamo bisogno Come capire se inserire l'apostrofo oppure no Vediamo Vediamo il caso di buono Siamo indecisi Tra scrivere Buon uomo Senza apostrofo E buon apostrofo uomo Proprio non ci ricordiamo la regola Come possiamo fare Ci aggiungiamo A buon Nei due casi Un nome che non inizia per vocale Come uomo Ma inizia per consonante Aggiungiamo ad esempio La parola Pasto Ci scriviamo quindi Buon pasto E buon apostrofo pasto Notiamo subito Che qui C'è un grosso problema L'apostrofo Non ci sta assolutamente Per cui Noi possiamo dire Con certezza Che buon Non richiede L'apostrofo Tutto questo Lo cancelliamo E a noi resta Buon uomo Senza apostrofo Buon pasto Senza apostrofo Il gioco è fatto Vediamo il caso Dell'aggettivo Povero Abbiamo Un dubbio Tra Pover uomo Senza apostrofo E pover uomo Con l'apostrofo Qual è la formula giusta? Proviamo ad aggiungere A pover Un nome Che inizi Per consonante Vediamo Aggiungiamo Il nome Un nome Che inizi Per consonante In questo caso Ragazzo E leggiamo Pover Ragazzo Ci sta Secondo voi Allora Possiamo dire Che la scelta giusta È l'apostrofo Noi cancelliamo Tutto ciò Che non è corretto Pover ragazzo Proprio Non ci stava bene Per cui Tra le due Formule La scelta Corretta È Pover uomo Con L'apostrofo Direi quindi Di concludere La lezione di oggi La prima Delle due lezioni Che dedicheremo All'uso Dell'apostrofo La prossima settimana Completeremo L'argomento Ma già Questa settimana Abbiamo visto Alcuni aspetti Per evitare Soprattutto Degli errori Che sono Frequenti E che spesso Ci rovinano I compiti Sia Come riuscita Che come Soprattutto Quello che ci interessa Come voto finale Direi immediatamente Di passare All'ultima parte Della lezione Quella dei saluti E delle raccomandazioni Finali Andiamo Momento dei saluti Finali Quindi Vi ringrazio Per l'attenzione Per le comunicazioni Rimangono attivi Tutti i canali Che abbiamo a disposizione Per cui E-mail Registro elettronico E soprattutto La piattaforma Moodle Noi ci diamo appuntamento A lunedì Per la lezione Che come di consueto Sarà dedicata All'antologia In particolare Alla poesia Per tutte le necessità I dubbi E i quesiti Potete tranquillamente Contattarmi Attraverso appunto I canali Che conoscete bene Non mi resta Che augurarvi Un buon pomeriggio Un buon fine settimana E ci vediamo Presto Ci vediamo lunedì Sempre qui All'interno Del nostro canale Ciao a tutti